Ivan Milkovic, rimane l'amarezza per questa sconfitta ma è stata una grande partita e forse il rammarico sono stati qui i primi due set in cui non siete partiti proprio benissimo. No ma contro le grandi squadre i rammarici non dovrebbero esistere perché tanto prima di iniziare la partita ce la dobbiamo aspettare lunga fino alla fine, soprattutto contro le squadre che hanno dei grandissimi campioni e che giocano veramente una pallavola ad alto livello. Ci dispiace forse un pochettino perché in casa dovevamo partire un po' meglio, siamo stati abbastanza bravi di riuscire a girare la partita anche nel tie break di avere qualche punto in vantaggio al favore nostro, poi un pizzico di fortuna alla fine dalla parte loro e mi dispiace per la vittoria, potevamo continuare queste 7-8 partite con le vittorie ma comunque fa parte del campionato, fa parte del nostro progresso e sviluppo. Hai provato a evitare quella palla alla fine, non ci sei riuscito no? Era più forte di me questa volta. Che impressione hai avuto di questa partita? Tu sei ritornato nel campionato italiano, è una sfida di altissimo livello, abbiamo visto tanti campioni in campo. No, credo che la gente abbia visto la pallavola ad altissimo livello con tanti scambi, con tanti attacchi forti ma anche e soprattutto con tante buone risposte dalla parte della squadra avversaria, sia noi che loro. Sono abbastanza contento perché ho visto delle squadre, specialmente la squadra di Modena stasera, che difendono tanto e che sbagliano poco. Queste sono secondo me le cose fondamentali della pallavola moderna. Non c'è bisogno di dirlo ma non si può riposare un attimo perché arriva subito la Champions e poi un'altra trasferta. No, già fra tre giorni siamo in partenza di nuovo, andiamo in Repubblica Ceca. No, continuiamo prima, continuiamo a starci dentro con la testa, a pensare alle cose che abbiamo fatto bene e soprattutto a cercare di passare il primo turno della Champions. La partita contro i cechi sarà la nostra prima sfida, diciamo, di continuare a giocare bene. Grazie.